Per questo contoh, eh? C'è giusto? C'è giusto? No, da nove! Il dottore numero 3-2! Sì! D'arrivo! 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 Sì! Grazie a tutti! Grazie a voi! Si ha preso Zemma! Ti ha donato da Vici in sigo da Moreno Vettis! E poi ancora, Magna Rossi e Silla, perché l'abbiamo detto sono 9 ragazzi, si sarà la vicia a fare da Sizzura!